Oh ma bentornati su Whatsapp Economy! Nuova puntata, nuovo studio, nuovo me e nuovo argomento. Parleremo di banche, extra profitti e del governo Meloni. Primo avvertimento, non è mia intenzione difendere le banche. Vedo quasi ogni giorno quello che riescono a fare in negativo e i loro clienti nella gestione del loro patrimonio. Ma la realtà bisogna pur sempre raccontarla ed eventualmente anche difendere il nostro peggior nemico. E quindi è quello che faremo oggi. Partiamo innanzitutto dalle parole, perché le definizioni sono importanti. E ve lo dice uno che in italiano fa cacare. Lo vedete ogni giorno con i miei video. Ora, questa imposa straordinaria è stata definita come la tassazione sugli extra profitti del settore bancario. Ora vado a leggere la definizione della Treccani per profitto. Il profitto è l'utile che si ricava da un'attività imprenditoriale, inteso come eccedenza del totale dei ricavi sul totale dei costi. Quindi è una tassa sugli utili, voi penserete. E invece no, perché questa fantomatica tassa si applicerebbe sui ricavi derivanti da specifiche attività bancarie. Quindi non si dovrebbe chiamare extra profitti, ma tassa sugli extra ricavi, eventualmente. Eh ma Giorgio, che precisino che sei! E beh, in realtà no, perché non è una specificazione di poco conto. Infatti, non essendo una tassa sugli utili dell'azienda, bensì come abbiamo detto sui ricavi, su determinati ricavi, se non dovesse rispettare determinati canoni fiscali, come ha sottolineato anche l'ABI, come ad esempio la deducibilità ai fini Ires ed Irap, Beh, questa tassa sugli extra profitti potrebbe essere anche un'imposizione fiscale ingiusta e quindi revocabile. E indovinate quale il governo potrebbe aver fatto ciò? Beh, ovviamente quello di Meloni-Chan! Ma andiamo avanti. Qual è la definizione di extra profitto in economia? Beh, l'extra profitto si riferisce a una situazione specifica, cioè quella in cui un'impresa, essendo in un monopolio o in un oligopolio, ha una forza contrattuale tale da poter fare i prezzi che gli pare anche superiori rispetto ad una situazione di mercato concorrenziale. Quindi un extra profitto è un profitto maggiore rispetto ad una situazione di concorrenza. E questo è male. Niente di complicato. E quindi qui la domanda diventerebbe Il settore bancario italiano è in una situazione di monopolio e quindi giusto sovratassare gli extra profitti? Ecco, a questa domanda la risposta è assolutamente negativa. Non solo perché il garante sulla concorrenza ad oggi non ha descritto questa situazione di monopolio nel settore bancario, ma anche perché molte volte da parte della BCE e della Commissione Europea sono arrivati richiami su un settore bancario italiano troppo spesso frammentato, piccolo e fragile. Insomma, tutto l'opposto rispetto ad un mercato monopolista o oligopolista. E quindi come li chiamiamo questi profitti? Beh, semplicemente profitti. Normalissimi guadagni che rientrano nella normale attività d'impresa. Infatti, quando si apre un'attività economica, dovete sapere che ci sobarchiamo sia rischi che opportunità della stessa. Per la banca, un aumento dei tassi di interesse deciso dalla BCE rappresenta sicuramente un'opportunità di guadagno che rientra all'interno della sua attività economica. Ma questo aumento dei tassi rappresenta anche un rischio e di questo ce ne occuperemo dopo. Quindi, già arrivati fin qui, vedete gli innumerevoli problemi di definizione e applicabilità di questo tipo di imposizione verso le banche. Insomma, già qui si capisce quanto sia il rispetto del governo verso la libertà d'impresa, in quanto in maniera randomica, senza una corretta giustificazione economica, decide quali profitti di tassare di più e quali di meno. Non bello. Ora, spero che fin qui sia stato un discorso bello liscio. A me gli occhi belli concentrati che adesso entriamo in una cosa un po' più particolare. Quindi, belli attenti. Tranquilo. Da dove arrivano questi guadagni delle banche? Beh, dovete sapere che ci sono sostanzialmente due fonti di reddito per una banca. E qui, finalmente, posso inaugurare questa mia lavagna muro che utilizzeremo spesso per fare robe. Andiamo a vedere i guadagni di una banca. Ecco, dicevamo, queste sono le due fonti principali di reddito di una banca. Il margine di interesse è le commissioni sui servizi. Il primo, il margine di interesse, deriva dalla differenza tra i tassi attivi e i tassi passivi. Quindi, ad esempio, se ho un prestito del 2% e io banca, do un credito del 3%, il differenziale che sarebbe l'1% è la mia fonte di guadagno. La seconda parte, invece, è quella delle commissioni, sono ad esempio le commissioni sul conto corrente oppure sui bonifici. Quindi sono tutta quella parte di commissioni bancarie. Ora, è interessante sapere che la prima fonte di resi, cioè questo margine di interesse, è sensibile alla politica monetaria e al contesto dei mercati. Quindi è proprio da questa componente che le banche, in questo momento, stanno guadagnando di più. E qui qualcuno mi dirà, Ah, lo vedi, Giorgio? Si stanno arricchendo sulle nostre spalle, grazie ai tassi sui mutui molto più alti rispetto a prima. E invece non funziona esattamente così. Se infatti oggi la banca vi chiede un tasso di prestito sul mutuo del 4%, non significa che sta facendo un guadagno del 4%, perché all'interno dell'operazione del prestito, la banca subisce anche dei tassi di interesse passivi, che al momento sono molto alti. Quindi il tasso che vi propongono, meno il tasso passivo della remunerazione, viene definito lo spread, che sarebbe questa parte bianca qui, che è il guadagno della banca. Questi spread sui finanziamenti o sui mutui, nonostante l'aumento dei tassi, sono rimasti abbastanza stabili. E, tra l'altro, a causa della politica monetaria della Banca Centrale Europea, erogazioni di finanziamenti e mutui sta diminuendo perché sono più costosi. E quindi stanno diminuendo anche i guadagni da queste operazioni bancarie dei prestiti e dei mutui. Quindi, per farla breve, beh, no! I guadagni delle banche non arrivano dal prestito dei mutui, quindi non li stiamo pagando noi questi extra profitti bancari, ma derivano da tante altre attività bancarie che, però, non hanno un impatto diretto sui clienti. Parliamo, ad esempio, dei tassi overnight. Un'altra fonte di guadagno interessante, ad esempio, sui titoli di Stato, che le banche adesso ricevevano al 3-4%, invece cinque anni fa avevano un tasso dello 0%, o anche negativo. Altre operazioni finanziarie che non coinvolgono direttamente il piccolo risparmiatore o quello che va a chiedere un prestito. Quindi, il succo del discorso è che no, non state pagando voi gli extra profitti delle banche. Chiaro? Oddio, rega, ma non pensavo! Ma non pensi, non pensavo! Di queste cose e tante altre cose ne parleremo anche nel percorso di educazione finanziaria che partirà settimana prossima, cioè il 12 ottobre. Saranno più di sei ore di contenuti dove parleremo di educazione finanziaria base, quindi aperta a tutti i livelli di formazione. E parleremo anche di queste cose qui, di tassi interesse, di spread bancari, di mutui e così via. Quindi, se siete interessati, link in descrizione e acculturatevi di educazione finanziaria. Ma torniamo a noi. Abbiamo detto che questa componente di ricavi è sensibile alla politica monetaria della BCE. Quindi, se aumentano i tassi, allora potenzialmente possono aumentare anche i ricavi di questa sezione della banca. Ma vale anche la parte opposta, e cioè, se i tassi diminuiscono, rimane comunque questa sensibilità e anche i potenziali guadagni delle banche diminuiscono. Volete un esempio? Beh, molto semplice. Per un decennio, e cioè dal 2012 al 2022, i tassi, gli offerti dal mercato e della BCE sono stati zero o addirittura anche negativi. Quindi, questa componente qui, che doveva essere un guadagno per la banca, si è rivelata per un intero decennio un totale costo per la banca. Come ad esempio anche i rendimenti dei titoli di Stato, che spesso erano negativi e quindi influivano sulla redditività di questa componente del business model della banca. E questi costi non sono stati trasferiti ai clienti. In quel periodo, la fonte principale di reddito, quindi, era questa parte qui, cioè quella delle commissioni sui servizi. Quindi, metà del business model per un decennio non funzionava più a dovere. Ma perché vi ho fatto tutto questo preambolo? Perché qui arriviamo a un'altra critica della tassa in questione, sottolineata anche dalla Banca Centrale Europea. E cioè che l'imposta ideata dal governo Meloni guarda solo ad uno specifico momento del ciclo di business e non all'intera attività economica. Perciò risulta non solo ingiusta per i motivi che vi ho raccontato prima, ma anche distorsiva. Per farvi un esempio, è come chiedere gli extraprofitti ad un'attività turistica estiva. Li tasto di più perché a luglio e agosto fanno un botto di soldi, ma poi peccato che tutto il resto dell'anno hanno un fatturato zero. Non ha senso fare questo tipo di imposizione. Lo stesso modo vale qui. Se per un decennio hanno avuto questa marginalità praticamente a zero, ora che ce l'hanno li tassi pure, non ha molto senso fare tutto ciò. Ho sbaglio. E qualcuno mi direbbe eh sì, ma ha guadagnato senza fare niente. Ora, a parte che ci sono tante altre attività che guadagnano senza fare niente, tipo balneari, perché il governo non li prende di mira? Oppure ancora, se apro un piosco e poi dopo due anni mi costruiscono uno stadio, anche quello è un guadagno senza fare niente. Ma lo Stato lo va a tassare? Non credo. Ma, a parte questi esempi, non è proprio reale che le banche stanno guadagnando senza fare niente, perché stanno assumendo anche dei rischi. Ad esempio, tutto questo aumento dei tassi di interesse della banca centrale che avviene ormai da un anno, non è stato sicuramente uno scherzetto per le banche che hanno visto molti asset detenuti nel loro portafoglio in profonda perdita. ci sono state banche anche che in questo processo di aumento dei tassi sono fallite per questo scherzetto. Non ultima, la Silicon Valley Bank a marzo di quest'anno. Quindi, non è che sono state lì in pancioli e hanno visto iniziare i capitali a aumentare. Sono state una serie di condizioni che hanno portato poi a questi guadagni. Oltretutto, questa caspita di tassa risulta anche una tassa di corto respiro. Inutile a risolvere eventuali buchi di bilancio strutturali dello Stato. Perché, come abbiamo visto, un giorno c'è e cioè quando i tassi sono alti, l'altro giorno no, quando i tassi sono a zero o negativi o molto bassi. Quindi, non è che è una tassa periodica che hai la certezza di andare a prendere dalle casse delle banche. Quindi, un'altra criticità è anche questa. Ma, attenzione, facciamo anche che vogliamo tassare le banche perché sì, perché ci va, perché vogliamo farle pagare. Beh, dovete sapere che in realtà una sovratassa bancaria esiste già. Infatti, già dal 2011 le banche pagano un'aliquota IRAP maggiorata al 4,65% rispetto a quella ordinaria fissata al 3,90%. Inoltre, dal 2017 hanno anche un'addizionale IRES pari al 3,5%. Quindi, le stiamo già sovratassando le banche. Vogliamo farle aumentare? Ma aumentiamole, non sarò io di certo a fermarvi. Però, con criterio, non con questa tassa sugli extra profitti che non ha niente a posto come vi ho raccontato fino ad adesso. La cosa divertente di tutta questa storia è che, tra i richiami della BCE, conseguenze in borsa dei maggiori titoli bancari che sono collati a picco appena è stata annunciata questa tassa e forse anche un po' di autocritica, alla fine ci sono stati diversi cambiamenti alla formulazione di questa tassa. Infatti, siamo passati da una tassa calcolata in un modo, poi è stata calcolata in un altro modo, poi alla fine è diventata da una tassa sugli extra profitti a un incentivo alle banche a ricapitalizzarsi e quindi ha perso questa voglia di diventare una tassa. Insomma, veramente un delirio totale. Vedremo come alla fine sarà effettivamente in vigore questa fantomatica tassa sugli extra profitti che come abbiamo visto fa acqua da tutte le parti praticamente. Però, alla fine che ci volete fare? Siamo in Italia quindi tutta questa storia ci appassiona sempre e non vediamo l'ora di vedere il finale. Se vogliamo da tutto questo racconto un po' imbarazzante possiamo trovarci anche una piccola morale che va al di fuori dal contesto prettamente bancario di come funzionano le banche della finanza pubblica del governo eccetera eccetera. Per me questa è l'ennesima storia che descrive perfettamente le criticità di questo paese nel fare impresa. Regole incerte dichiarazioni fuorvianti e disorientanti un non rispetto della libertà imprenditoriale leggi che prima le formano in un modo poi le formano in un altro poi ci sono i decreti attuativi e quindi non si capisce niente come effettivamente si applica la legge in un contesto e via discorrendo. sono queste anche le cose importanti avere delle leggi che funzionano con un minimo di senso e che rispettano la libertà imprenditoriale fino a poter creare impresa anche ad attrarre i capitali dall'estero perché pensate un investitore tedesco che vede questo delirio secondo voi sarebbe invogliato a investire qui io non credo. Fatto sta vedremo come alla fine avrà la luce la tassa sugli extra profitti però per il momento ci vediamo questo un vero delirio e niente spero che questo video vi sia piaciuto se siete interessati a conoscere di più di questi argomenti di educazione finanziaria vi aspetto al mio corso le fondamenta che partirà dal 12 ottobre e ci vediamo alla prossima se non ti occupi di economia l'economia si occuperà di te bentornati e un nuovo ufficio nella mia lavagna che ci accompagnerà in magiche avventure alla prossima la prossima